Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi un video un po' particolare perché sì, parliamo di Excel, ma non facciamo le solite formule avanzate o quant'altro. Bensì andiamo a fare un'intervista, un'intervista ovviamente a un famoso personaggio di Excel, tutti quanti lo conosciamo. È intanto famoso grazie alla condivisione e divulgazione di video sul canale YouTube, dove ha pubblicato più di 500 video. Ormai conta più di 50.000 iscritti. Quindi ragazzi diamo il benvenuto a Gerardo. Prego Gerardo, accomodati pure. Prego, prego. Eccoci qua. Ciao a tutti ragazzi. Bene, innanzitutto ti ringrazio di avermi invitato. Non capita spesso di essere intervistato qui su YouTube. Voglio fare una piccola precisazione perché comunque non ho 50.000 iscritti. Alla data di oggi conto bene o male 15.000 iscritti. Purtroppo Excel non è che così tanto coinvolgente. Dopodiché ho pubblicato solamente 250 video e non 500 video, come hai detto tu. Quindi una piccola correzione. Comunque ho accettato il tuo video perché oltre a chiamarti come me, hai anche comunque la passione per Excel, ma soprattutto ci assomigliamo un pochettino. È vero ragazzi? Bene, allora Gerardo, spiegaci come è nata questa passione per Excel e come sei arrivato poi a YouTube. Ma diciamo che ho avuto sempre un po' fame di Excel. Sì, nei tempi quando avevo comprato il mio primo PC, che erano lontano, 1990, mi ero installato nel mio PC, il mio bel classico CD pirata, che allora era, se non sbaglio, Office 95, dove appunto mi divertivo a fare i miei primi template, i primi modelli, ma allora non sapevo ancora cosa fossero le fomole. Dopodiché, piano piano nel tempo, quando poi mi sono aperto l'attività, che ho avuto la necessità di organizzare il personale, organizzare i fornitori, quindi ho approfondito, ho iniziato a mettere le prime fomole. E diciamo che ho fatto di necessità una virtù, perché poi, come tutti quanti sapete, sono andato avanti con Excel. Dopodiché, per quanto riguarda il lato dei video, diciamo che ho avuto anche qui sempre la passione di un po' di video, sin dai tempi che navigavo sulle miei della crociera, giravo il mondo con la mia bella video cam, e praticamente mi piaceva poi editare i video, mi piaceva mettere delle transazioni, delle animazioni, tagliare, insomma, mi piaceva un pochettino editare i video per renderli sempre un po' più accattivanti. E qui, diciamo, il connubio, c'è stata la fusione tra Excel e i video, e quindi non potevo non mettere poi il tutto sul canale YouTube, cosa che comunque adesso mi ha dato molta soddisfazione, e conto comunque di realizzare ancora altri video, perché devo dire la verità, mi piace molto, è una passione che mi ha preso. Sai, non c'è mai limite alle passioni, quindi vediamo di andare avanti. Quindi, Gerardo, ti ringrazio per aver citato la mia intervista, ti auguro ancora mille video come questi, perché tanto piacciono e tanto appassionano. Spero di vederti in un'altra intervista come questa, e ti ringrazio, e un saluto. Beh, allora, un saluto a te e a tutti gli amici di Excel. Ciao! Ciao!